Nella giornata di ieri la polizia ha arrestato un 34enne incensurato e proprietario di un circolo ricreativo situato nel centro cittadino di Battipaglia, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente al fine di spaccio. L'uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish del peso complessivo di 25 grammi, di un bilancino digitale perfettamente funzionante e di un coltello utilizzato per la preparazione delle singole dosi. Il pubblico ministero ha disposto che l'indagato, dopo le formalità di rito, fosse collocato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.